Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gal07x e in questo nuovo breve video parleremo di un piccolo easter egg di Half-Life che possiamo trovare nei laboratori Black Mesa Allora, all'inizio di Half-Life, quando entriamo nello spogliatoio per prendere la tuta HIV, possiamo trovare tanti armadietti con scritti i nomi di alcuni sviluppatori di Half-Life E già questo è un easter egg, ma noi non siamo qui per parlare di questo Comunque, tra questi armadietti troviamo anche quello di Gordon, dove al suo interno possiamo trovare una foto di un neonato, su cui fino a qualche anno fa non si sapeva molto E questa foto non è qui casualmente, infatti da quanto detto da Mark Laidlow, lo story writer di Half-Life e Half-Life 2, questa dovrebbe essere la figlia di Harry Teasley, il level designer di Half-Life Che durante lo sviluppo del gioco, aggiunse questo piccolo easter egg e successivamente Laidlow, decise che sarebbe stata la nipote di Gordon E chissà, magari la vedremo anche in un nuovo Half-Life, sempre sperando che Valve si decida a rilasciarlo Comunque, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo easter egg e se sapevate già la sua storia E se magari avete qualche informazione in più che non ho inserito nel video E grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video Grazie a tutti